Buongiorno a tutti, oggi una videopillola dedicata al trading di breve termine, ai time frame migliori per fare trading di breve termine, quelli che utilizzo io da tantissimi anni, quelli per cui la price action possa essere buona, accurata, utilizzabile, diciamo. Allora andiamo a vedere subito quelli che sono i grafici di riferimento, prendo una situazione che è accaduta negli ultimi tempi, mi è accaduta, allora andiamo a fare così, eccoci qua e questo che vedete qui è il dollaro yen su time frame daily e 4 ore. Allora intanto partiamo dal fatto che uno dei time frame migliori per fare trading in breve termine è, la bussola è il grafico settimanale, per poi andare a, come sempre dico, ad abbassare il time frame e andare su grafici giornalieri e a 4 ore. Quindi potremmo dire che non c'è un time frame preciso e perfetto per fare trading di breve termine e apro una parentesi, per trading di breve termine io indico un trading che va da un giorno al massimo, cioè al minimo, al massimo a due settimane. Quindi è un trading che solitamente sta multi day, quindi sta in overnight, mediamente rimane 5, 6, 7 giorni. Le operazioni principalmente che durano di più vanno a prendere due settimane, 14, 15 giorni, quelle che durano meno a volte durano anche solamente un giorno o anche due, perché si va direttamente a chiudere l'operazione perché magari si è fatto subito un movimento importante o perché magari la posizione non va e già capiamo che non va tenuta. Però diciamo che non c'è un time frame, c'è una moltitudine di time frame, diciamo che il weekly è sempre la bussola e poi abbiamo il daily e il 4 ore che ritengo assolutamente interessanti. Già su questo canale voi negli anni avete visto dei miei video, nei corsi vari, dedicati ai time frame daily, time frame 4 ore. Oggi vorrei andare un po' a vedere anche degli esempi, anche se li abbiamo già fatti in altre occasioni. Ecco, questo qui è, come potete vedere, il time frame giornaliero, USD Yen daily, USD Yen 4 ore, cioè qui sopra lo vedete molto bene. Ecco, diciamo che io cerco sempre di quindi guardare la dinamica che passa su un grafico a almeno giornaliero o weekly e quindi in questo caso io ero partito da un time frame weekly che aveva prodotto una pin bar anche FTV Reversal, che è uno dei miei trigger operativi di inversione, forse è l'unico veramente di inversione che potrei utilizzare, ma non sono entrato ovviamente direttamente sul settimanale anche perché era un contro trend abbastanza chiaro. In realtà l'FTV Reversal è anche questa, per chi la conosce se vogliamo, questa qui è un FTV Reversal e proprio nelle giornate successive al breakout, quindi c'è stato, come possiamo notare qui, un breakout del minimo settimanale, recupero e poi si è creato una classica consolidamento di quel ribasso, di quella gamba ribassista, di quel movimento. Ecco che in questo caso questa congestione può diventare interessante perché? Perché siccome c'è un trend in atto molto forte, un po' come ha fatto qui, qui mi riparte, no? Mi riparte e mostra forza. In questo caso invece una volta che lui va giù e ribassa, vedete, tende a non riuscire ad andare oltre certi livelli e questa cosa per noi è molto molto interessante. Quindi nel momento in cui io mi accorgo che il mercato non riesce a fare su, non riesce ad andare oltre certi livelli, in questo caso 149, io posso andare a vedere quello che sta avvenendo sui grafici un po' più piccolini, non troppo piccolini. In questo caso io ritengo il 4 ore uno dei grafici migliori per l'operatività di breve termine. Perché ci permette di non avere già il grafico a ore, orario, è molto 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 meno accurato. Invece il grafico a 4 ore prende poche candele in un giorno, per l'esattezza 6, 6 per 4, 24 ore di un giorno, ma le principali sono quelle, diciamo, che si vengono a formare durante le sessioni europee-americane, quindi sono quelle 2-3 barre durante la sessione. E nella contestualizzazione di un weekly-daily possono in effetti dare delle conferme o delle dinamiche che ci mostrano delle dinamiche un po' più di breve, no? Nell'aspetto daily-weekly della tendenza di fondo e della struttura di fondo che ci possono dare delle buone idee, no? Delle buone opportunità. In questo caso eravamo proprio su questa situazione qui, il lunedì, che poi è iniziato a scendere, vedete cosa è successo. Quindi nella dinamica che si era formata tutta la congestione, il mercato, guardate, vi faccio vedere, aveva formato nella giornata del mercoledì 2 novembre una pinbar che ha iniziato a andare su, ma poi, guardate, la giornata successiva c'è stato un sell-off, non è riuscito il mercato ad andare oltre il livello di resistenza 149, 148, 80. E' ovviamente molto importante segnarsi bene i livelli chiave sui time frame grandi weekly e daily. E in questo caso qui c'è stata proprio, come possiamo dire, un po' la conferma. Infatti io dal giorno successivo sono andato, diciamo alla ricerca, comunque sono andato a osservare il dollaro yen esclusivamente in ottica short. E in effetti dopo questa barra appunto del venerdì 4 novembre noi abbiamo questa situazione. Quindi questo che voi vedete qua, vediamo se me lo segna dall'altra parte. Guardate, me lo segna. Vedete, è proprio quella barra lì che dicevo, cioè quella successiva. Questa qua è domenica, quindi è tutta una barra unica. E si è venuto a creare qui proprio il classico sell-off, quindi non tenuta dopo questo movimento. Questa tipologia di situazione che si viene a creare nell'ottica di avere un FTV reversal su weekly, una dinamica di congestione e consolidamento sotto le resistenze giornaliere e una dinamica su quattro ore, in questo caso dopo c'è stata tanta volatilità, ma in quel caso apriamo un po' il grafico. Ecco qua, siamo messi così. Ecco che si può iniziare a pensare, a dire, beh, a questo punto potrei tradare direttamente una dinamica di questo tipo. Io sapete, quindi, su questa zona inserire un sell, io ero entrato a 146,63 e mezzo proprio per l'esattezza, e lo stop meglio paracadute, quindi non uno stop direttamente qui, perché è facilissimo essere presi, perché magari il mercato fa il classico pivotal point, quello di Jesse Livermore, cioè ritorna qui e poi fa questo, no? Invece noi non ci mettiamo qui, non ci frega di avere lo stop qui. L'importante è trovare il punto giusto ed avere uno stop paracadute corretto, quindi potrebbe essere, per esempio, al di sopra della zona questa qui o anche al di sopra, in realtà, dell'FTV settimanale, se si vuole essere ancora più prudenti nell'ottica dello stop e quindi abbassare notevolmente i size, i lotti, eccetera. Questa, però, poteva essere un'area assolutamente divenita, in realtà che l'ho venduta. Guardate, quindi è molto, molto interessante, è molto importante lavorare su questi schemi. Se andiamo a vedere un altro mercato interessante, prendiamo euro-dollaro, anche lui, euro-dollaro, nell'ultimo periodo, guardate, sul, vabbè, sul weekly aveva iniziato, no? Una struttura long, questa qui è la barra weekly che ha fatto pin bar, falso minimo, che poi ha creato lo swing low nella rottura del massimo. E quindi nella settimana successiva, nel momento in cui il mercato mostra forza, quindi, ecco qua, questa qui era praticamente, vi faccio vedere, questo è settimanale, questa qui è all'interno della pin bar, quindi quello che crea la pin bar sono questo movimento qui. Già il fatto che in questa situazione qua, qui, si è creato il, questo, quindi swing high, con la possibilità di scendere, il mercato era in discesa, struttura ribassista sul week, qui ci dà la barra ribassista e qui la recupera e chiude così, è molto più probabile che la settimana successiva, seppur con attenzione, in questo caso eravamo su una tendenza short di medio termine, ma è molto più facile che il mercato salga. E quindi, in questo caso, già tra daily e quattro ore, nelle successive giornate, quindi da qui in avanti, quindi, ecco qua, prendiamo quattro ore, da qui in avanti si può iniziare a lavorare in ottica più long. Quindi, per esempio, qui, guardate, abbiamo una FTV, tra l'altro, comunque una dinamica long, quindi si può decidere di fare un'entrata long qui. Ovviamente non si va a posizionare lo stop qui, e qui verremo, ecco, vedete, lo stop paracadute, verremo presi, ma si va a inserire un long qui, uno stop che va al di sotto dello swing più importante, weekly, daily, diciamo, quello che fa minimo, importante, quindi un paracadute che ci permette di veramente essere assicurati, perché poi lo stop loss, chiamiamolo così, è un'assicurazione della nostra posizione, e in questo caso, nel momento in cui lui, se fosse sceso, avesse continuato, ovviamente sotto certi livelli, avrei chiuso la operazione, meno, ok? Ma, siccome poi crea questo, noi siamo dentro e abbiamo una posizione che poi possiamo iniziare a spostare, in questo caso, per esempio, fossimo ancora dentro in un long da queste aree, da questi livelli, poi si può anche usufruire un livello di tracciamento, insomma, questa zona, è ovvio che adesso si può essere, a parte aver preso anche profitto su queste aree, assolutamente quando lo inizia un po' ad accelerare, oppure spostare, per esempio, uno stop sotto 1,0250 e provare a vedere come va. Questo è trading di breve termine, fatto come si deve per chi ama il trading con la price action, per chi ha voglia di imparare questo tipo di trading, ecco, trading di breve termine, anche su grafici a 4 ore, ma sempre con l'ausilio di un weekly daily che ci permette di vedere bene la struttura. Però il time frame, possiamo dire, migliore, non ce n'è uno, possiamo fare un mix tra weekly daily e 4 ore. Le entrate vanno più su daily e 4 ore, seppur spesso si può già anche entrare sul weekly, soprattutto su certi mercati, ma, per esempio, sul Forex, un mercato molto dinamico, avere un'entrata confermativa, per esempio, su daily e 4 ore, ci permette, oltre ad avere una conferma, appunto, ma anche di avere una dinamica, diciamo, di mercato che ci permetta, appunto, di avere un'entrata magari più corretta, quindi un timing d'ingresso migliore, ok? Seguiranno altri video su questi esempi, esempi proprio sui grafici, grafici e 4 ore, grafici daily, grafici weekly, soprattutto su daily e 4 ore, mi piacerebbe puntare, diciamo, la formazione sul canale nei prossimi mesi, nei prossimi settimane, quindi state connessi, lasciate un like, ovviamente, se questo video vi è piaciuto e vi è di supporto all'operatività, inserite un commento, se volete che andiamo a discutere su dei temi tecnici, sui grafici della price action, che magari vi stanno a cuore, e cercheremo di sviluppare delle video pillole proprio su questo. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro per il momento un buon trade insieme.